ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come bloccare un utente su instagram per bloccare un utente sia che vi abbia inviato qualche messaggio oppure basta scegliere anche l'utente tra la lista degli utenti dei contatti basterà cliccare sulla fotografia poi clicchiamo di nuovo sull'icona della foto e andiamo sui tre puntini in alto a destra clicchiamo sopra andiamo su blocca comparirà così una finestra che chiederà di confermare si confermo o annullare in questo caso annullo dopo aver confermato l'utente sarà bloccato vi ricordo anche che è possibile togliere anche le storie nascondere le storie di un contatto o le notifiche quindi se non volete bloccarlo in questo modo potete anche staccare sia le notifiche che le storie se avete apprezzato questo breve video potete cliccare sul like se non vi siete ancora iscritti al mio canale vi consiglio di farlo per non perdervi tutorial come questi e mi raccomando attivate la campanellina per qualsiasi domanda mi potete trovare su instagram obaldo.info un saluto da Obaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti